... ... Subito in arresto e tiro senza nemmeno una palla per terra Lancio lungo di Rosselli, Perpini che va a segnare in contropiede subito Verona Dopo essersi girato nell'area colorata, Rosselli scarico, no look per i 5 Henderson cerca di liberarsi sul blocco, si prende il tiro e va a segno, va da primo tentativo Accarezza l'anello e poi esce, si prende subito un tiro, Johnson di grande talento Indietro da Weasel, a Sacagi ancora per l'americano che si prende il tiro addosso a Grant Per Henderson che si è molto alzato, prova a saltar via Risma che è appena entrato E addosso al giocatore Estone, smette Giorgio Alinei Candussi si prende subito il tiro e va a segnare Pistoia, Candussi si prende un tiro in allontanamento E ne è scattorita una palla persa Caroti cambia mano, va fino al ferro ed è premiato Per Caroti si sbraccia in post passo Candussi Un tonnellaggio ben diverso tra lui e Grant che va a giocarsela fino al ferro Avanti di sette, Henderson per la tripla di Grant Gran passaggio a Noluc di Rosselli dietro la schiena Poi prende la palla a Grant ma alla fine esce in transizione e va a segnare con Sacagi Pisto Salva Casarin per Henderson, prova ad andare fino in fondo È un gran giocata, saltando via, bruciando E' fermo per l'inconturio, forno nel primo quarto Due secondi per chiudere e Grant Due palleggi, salta con la conclusione del piano Guido dentro per del chiaro, si gira e va a segnare 60, palla in mano Pistoia, è rientrato Risma Consignato della Chiara per De La Rosa Ancora va a poggiare dentro la zona di Pistoia Retro passaggio di Caroti per Grant Dentro per Udo, che va a segnare nel campo Grant, 8 secondi per chiudere questo possesso Prova ad andare dentro Grant, alza molto la parabola Cambia mano due volte, scarico di Grant che esita Prende il tiro da 8 metri L'Oleo, Caroti Subisce il contatto con del chiaro La conclusione di Caroti dalla punta Seconda tripla, secondo giro Adesso schizzata via, Guido Ma in certo tempo, tutto di arte Pisto De Johnson Armaglio Ha fatto Cassano su Cantucci A 4-4 Johnson è morto e va a 2-1 Ora che la palla scotta Caroti Caroti Buone per il giro Cantucci Per il testo Cantu, 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 Cantu Il giro Il giro Pronto a portare il blocco Caroti In carico di Caroti per Grant 82-72 Per andare al giro Il pubblico sente del traguardo e vicino 4 secondi Johnson Anderson Spida Magro Marsegnale Allo scadere del passetto Più 8 Verona La Veseli Verona Porta a casa La vittoria Anche in gara 2 Di questa serie Sempre a comando Dal primo All'ultimo Finuto